Buongiorno! Stamattina ho deciso di far ascoltare la musica classica alle mie piante. Facciamo la radiolina con la pannella solare e con la dinamo a che ridere. Quindi stamattina mettiamo un po' di zigni, mettiamo un po' di portulacca, mettiamo un po' di pomodori di San Marzano e il lampone. Quindi tra il canto delle galline e la musica classica. Stamattina osservo la rugiada che è ben presente sulle foglie delle piante. Ho solo incontrato una chiocciola, qualche afide, su due foglie, due piante di fava. Ma è normale, lasciamo che madre natura si esprima. Cerchiamo di lavorare sulla nostra parte ombra, di accettare le difficoltà, i limiti, il caos e sempre creatività. Apprezziamo i semi che mi sono state regalate da una bimba messi nell'ovetto di plastica. Oh, guardate che meraviglia! Nelle sue scattoline autoprodotte con etichetta e il cartone di Ginkgo Piloba. ha grandi aspettative questa bimba. Che bello! I bambini che credono veramente nella forza della natura e quindi pianteremo per lei questo Ginkgo Piloba. Chissà se crescerà mai. Vi apprezzo, vi lovo, vi porto con me amorevolmente. Ciao! Grazie. Ciao!